Bentornati e buon mercoledì a tutti. Allora, una volta il nostro grande Milan, quando eravamo re, contendeva i giocatori a Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e chi più ne ha più ne metta. Adesso siamo, diciamo, in un periodo un po' di stallo e allora i giocatori ci ricontendiamo con la Lazio, con la Fiorentina, con l'Everton, con l'Atalanta, col Torino. Vabbè, si prende quello che passa al convento e si cerca naturalmente di vivere nella speranza di tempi migliori. Nel frattempo, però, una notizia buona arriva, e cioè siamo riusciti a trovare una sistemazione definitiva a Riccardo Rodriguez. Il terzino svizzero passa ufficialmente al Torino, lo fa per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, cifra che permette di non registrare la bilancia una minusvalenza, perché Riccardo Rodriguez pesava ancora per 3 milioni e mezzo circa di euro al 30 giugno. E quindi, considerati tolti due mesi, più o meno ci siamo. Insomma, l'ingaggio del ragazzo è da 2 milioni e 100 mila euro all'anno e anche quello ce lo togliamo. E quindi direi che è una buona soluzione alla fine di una trattativa abbastanza complicata, ma sappiamo che con Cairo è così. In ogni caso, salutiamo Riccardo Rodriguez, lo ringraziamo per la professionalità dimostrata e per questa sua avventura al Milan. Le auguriamo tanta fortuna, ma personalmente non sentirò grande mancanza di questo ragazzo, che non è riuscito in maglia rossonera a imporsi e a replicare quello che di buono ci si aspettava da lui e che avevamo visto anche parzialmente in Germania e poi soprattutto anche lui probabilmente finito nel tritacarne di un Milan particolare. Milan particolare che ha detta di calciomercato.com ha tre obiettivi prefissati in questo momento, che sono il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il terzino destro e la questione al centrocampista centrale. Analizziamo i punti, cominciamo dal discorso di Zlatan. Non è ancora arrivata l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, rinnovo che non è ancora ufficiale perché ha detta delle cronache, secondo me hanno già l'accordo e arriverà a breve la notizia, ma in ogni caso si parla di un milione di euro che balla tra le richieste di Zlatan e l'offerta del Milan, è chiaro che non si può mandare tutto all'aria per un milione di euro, in ogni caso non si poteva mandare tutto all'aria come ci siamo già detti, perché Zlatan Ibrahimovic è uno dei capisaldi del nuovo corso targato Stefano Pioli, per cui anche l'allenatore, anche il nostro mister si è speso in parole nei confronti di Zlatan non può assolutamente saltare tutto. Non credo nemmeno che ci siano piani alternativi studiati dalla dirigenza, in ogni caso le prossime ore saranno decisive, da qui a raduno manca ancora qualche giorno, vedremo che cosa accadrà. All'interno del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, quello di cui secondo me bisogna fare più attenzione, non è tanto il discorso del rinnovo di Ibra, che vi ripeto, secondo me arriverà per questioni logiche, ma più che altro per eventuali papocchie che si possono fare col suo procuratore Mino Raiole. Le papocchie sono... è una citazione dal monaco di Monza, un film con Totò divertentissimo che vi andate a vedere, con Totò e Nino Taranto. La papocchia qual è? La papocchia è che può essere che Mino Raiole, come dire, spinga per altri suoi assistiti, oppure si metta di traverso magari per il discorso rinnovo Donnarumma, che è un altro tema spinoso che andrà trattato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ed ecco perché il nome di Moise Ken, che abbiamo fatto ieri, è un nome che purtroppo ricorre anche oggi nelle cronache. Staremo a vedere se si tratta di una sparata giornalistica o meno. In ogni caso, lui che può giocare nel ruolo di attaccante destro, che è un ruolo dove secondo me Mino deve andare a fare qualcosa, deve andare a cercare qualche giocatore di livello, potrebbe essere una alternativa. E allora, attenzione, non tanto per le caratteristiche tecniche del giocatore, che sarebbero anche buone. Ha anche dimostrato di avere un buon talento Moise Ken, ma sicuramente da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista di testa, non ha dimostrato di poter essere ancora un giocatore determinante tra i professionisti. Tant'è che è arrivato a Leverton a gennaio e adesso pare già che Mino gli debba trovare una sistemazione. Quindi attenzione a questa cosa, a lui o a altri assistiti che Raio la potrebbe infilare all'interno della trattativa di Ibra a Milan, che a mio avviso può essere l'unica questione veramente in piedi relativa a questo fatto, perché non ci può essere una questione economica che blocca una trattativa, visto che, ripeto, Ibra è pilastro del Milan della prossima stagione e quindi non potrà non esserci. Bene, mettiamo da parte il discorso Ibra, su quale torneremo naturalmente ogni giorno in attesa dell'ufficialità. Adesso parliamo del terzino destro, il terzino destro che sembra essere sempre più Sergio Rie. Io conservo qualche dubbio sulla conclusione di questa operazione, ma in ogni caso oggi Sport Mediaset ci ricarà una chicca perché ci racconta che Rie è il prescelto e si giocherà la maglia titolare sulla destra con Andrea Conti. Ora, con tutto il rispetto per Andrea Conti, onestamente pensare che si compri Sergio Rie per fargli battagliare in allenamento una maglia titolare con Conti va bene da un punto di vista così di racconto, ma sappiamo che se prendono Rie, Rie sarà il titolare destro della fascia del Milan. Discorso centrocampista centrale, Bakayoko. Allora, qui su Bakayoko sappiamo che con il ragazzo c'è pieno accordo, disposto a ridursi d'ingaggio pur di venire al Milan, l'accordo si deve trovare con il Chelsea. Anche qui, secondo me, se c'è davvero la volontà del Milan di prendere Bakayoko, un accordo lo si troverà con una squadra che si trova un giocatore sulla groppa con un ingaggio importante, importante anche per il calcio inglese, che non sanno cosa farsene, che vuole andare via, che ha già l'accordo con un'altra squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che il Chelsea vuole tra i 25-30 milioni di euro anche nel caso del prestito, cioè il Chelsea vuole che il Milan sottoscriva un prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 25-30 milioni di euro. La casa Milan, fanno sapere, 9, e hanno detto non più di 20 milioni di euro. Questa è la cifra che noi siamo disposti a pagare alla fine della prossima stagione, quindi dopo il prestito, per Bakayoko. Si tratta di trovare un accordo, se si troverà, il giocatore vestirà la maglia rosso-nera. Altre notizie di mercato. Allora, Abdul Qadir Omur, il Messi turco di cui abbiamo parlato ieri, è al centro di un intrigo internazionale, non quello di Hitchcock, ma quello dei giornali. Perché? Perché questa mattina ho letto alcuni tweet che raccontavano di come la gente abbia categoricamente smentito qualsiasi interesse da parte del Milan, che non è vero che è arrivata l'offerta, eccetera, eccetera. Poi nel corso della giornata è uscita un'altra intervista della gente, il quale dice non smentisco e ne confermo, posso solo dirvi che anche l'anno scorso ci sono state le squadre italiane interessate, che una addirittura è venuta anche in Turchia per fare un'offerta e parlare, eccetera, non sarà però facile per il giocatore lasciare il trap zone sport perché il presidente non vuole privarsi e non ha già rifiutato delle offerte. E via discorrendo. Quindi, non lo so, vediamo cosa succede, vediamo nei prossimi giorni e cerchiamo di capire se c'è effettivamente interesse per questo giocatore. Notizie, flash qua e là, Pepe Reina e Valencia continuano a trattare, il portiere è ovviamente in uscita al Milan perché non ci possiamo permettere un portiere da 3 milioni e mezzo di euro e già liberarsi diciamo di questo ingaggio potrebbe essere una cosa importante, tra l'altro mi domando davvero come la gestione Mirabelli-Fassone abbia prodotto degli ingaggi di questo tipo, vabbè, lasciamo perdere, è acqua passata per fortuna. In ogni caso è destinato al Valencia, adesso si troverà all'accordo economico e quindi Pepe Reina se ne andrà. Molto probabile che rimanga Begovic a fare il secondo e Gigi Onnarum. Su Radekrunic c'è un interessamento del Friburgo, notizia di oggi, Krunic non credo che andrà al Torino anche per le questioni di mettersi a fare una trattativa con Cairo di cui abbiamo già parlato. L'interesse del Friburgo e della Bundesliga può essere una buona destinazione per il ragazzo che purtroppo non è riuscito a mettersi in mostra nel Milan. il discorso Miranchuk. Allora, Miranchuk anche qui c'è una diatriba giornalistica perché da Bergamo arriva la notizia che praticamente il giocatore è già dell'Atalanta. Da altre fonti, dalla Russia, con amore, arriva la notizia che il ragazzo vuole il Milan invece la sua preferenza sarebbe per il Milan. Vediamo, la cifra è di 15 milioni di euro, è una cifra che secondo me è accessibile per un giocatore di talento e quindi credo che vedremo nelle prossime ore un po' la contesa. Anche qui c'è un po' di andamento borsistico. Un minuto sembra fatta con l'Atalanta quasi alle visite mediche e il minuto dopo invece torna in corsa al Milan. Vediamo che cosa accade. Tiago Silva che ha giocato ieri la semifinale di Champions League. Tiago Silva non ha rinnovato col Paris Saint-Germain e c'è tra le varie opzioni anche quella che rimanga a Parigi un altro anno. Ci sono Fiorentina e Lazio interessate al giocatore in questo momento non sembra esserci il Milan in corsa quindi per il dispiacere diciamo di alcuni tifosi che avrebbero voluto Tiago Silva al Milan ma credo che i piani della società siano altri. Tra l'altro mi viene da pensare una cosa se Fiorentina Lazio diciamo sono sul giocatore evidentemente c'è un accordo anche per l'ingaggio che sicuramente non è quello di Parigi quindi Tiago Silva per tornare in Italia sarebbe disposto anche a decurtarsi abbondantemente l'ingaggio ma evidentemente il Milan non ha diciamo quell'intenzione non vuole andare verso quel giocatore e quindi ci saranno altri conti da fare per quel che riguarda anche i difensori centrali oggi tra l'altro in un articolo si parlava della volontà di Pioli di avere quattro difensori centrali titolabili diciamo quindi quattro giocatori che possono giocare titolari in questo momento ci sono Musacchio Duarte Gabbia Chier e Romagnoli di questi sicuramente diciamo Duarte probabilmente andrà in prestito su Gabbia si vedrà Musacchio diciamo è bloccato dall'infortunio e dal fatto che non ha più il mercato che aveva prima dell'infortunio Chier e Romagnoli naturalmente rimangono in questo momento sono i titolari chiudiamo con l'intervista anzi con le dichiarazioni di Marco Giampaolo nostro ex allenatore che oggi è stato presentato ufficialmente al Torino e ha dichiarato Milan è stata troppo breve per poter fare delle valutazioni oggettive ho fatto solo sette partite ho allenato una squadra incompleta che si è aggiustata con il tempo è chiaro che c'è tanta delusione per quello che è successo qual è il messaggio col quale voglio lasciarvi e augurarvi una buona serata un buon mercoledì sera è questo io ribadisco per l'ennesima volta che ci deve essere una stretta strettissima collaborazione tra l'allenatore e i dirigenti l'allenatore e i dirigenti devono parlarsi devono andare diciamo verso un obiettivo comune e devono farlo seguendo le strategie che l'allenatore vuole utilizzare se si assume e si ingaggia un allenatore bisogna dargli fiducia bisogna con lui pianificare la stagione e bisogna fare in modo di metterlo in condizione di poter lavorare questa non è una giustificazione ovviamente per Marco Giampaolo il quale ci ha messo tanto del suo perché ricordiamo i Borini centravanti ricordiamo il Castiglieco centravanti ricordiamo Suso trequartista con Cialanoglu in rosa ricordiamo insomma tante cose che sono andate male per colpa sua ma sicuramente lui non è stato messo nelle condizioni di lavorare ora detto questo la mia speranza è abbiamo deciso di andare avanti con Pioli molto bene il mister chiede certe cose la società gli presenta una rosa di candidati per le sue richieste in base a quelle che sono le possibilità del Milan e si sceglie all'interno di questa rosa di giocatori che potrebbero venire al Milan per ragioni di opportunità voglia di costo di ingaggio eccetera eccetera questa è la condizione fondamentale per una stagione che almeno parta con i presupposti giusti questo è il mio augurio vi auguro una buona serata ci sentiamo dopo Bayer-Monaco-Lione a 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